Ciao, sono Giuseppe Merlo. Fin da ragazzo una delle mie più grandi passioni è stato vivere all'aria aperta in armonia con la natura ed è forse per questo che ho iniziato ad occuparmi di sostenibilità fin dai tempi dell'università quando mi sono laureato nel 1999 in economia e commercio con una tesi sulla gestione ambientale nelle piccole e medie imprese. Dopo 20 anni di lavoro in una banca tradizionale sono finalmente approdato in Fideura e qui ho capito che anche nel mondo degli investimenti si possono compiere scelte concrete per il nostro futuro. Sono stato tra i primi 26 consulenti finanziari in Italia a conseguire la certificazione EFPA ESG Advisor avendo sostenuto l'esame nella prima sessione assoluta a livello europeo. Si tratta di un importante riconoscimento che attesta le mie competenze in tema di sostenibilità, competenze che metto quotidianamente a disposizione dei miei clienti affinché compiano scelte consapevoli in tema di investimento non solo riguardanti la sfera economico-finanziaria ma anche con una forte attenzione alla salvaguardia del pianeta, alla sfera sociale e alla qualità nella gestione delle imprese. Avendo due bimbe piccole sono consapevole che un approccio di questo tipo ha un impatto positivo sulle future generazioni. Se riusciremo a costruire un'economia che utilizzi le cose senza sprecarle potremo costruire il futuro, dice L. MacArthur che con la sua fondazione si prefigge l'obiettivo di favorire la transizione verso un'economia circolare. E nel settore finanziario se riusciremo a valorizzare i concetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance applicandoli ai processi di investimento potremo compiere scelte importanti e vincenti per il nostro futuro. Pianificare un futuro sostenibile oggi è possibile migliorando anche il rapporto rischio rendimento degli investimenti finanziari. Ne parlo spesso nelle mie newsletter che invio ogni settimana ai miei clienti. Lo faccio per guidarli nell'analisi dei mercati finanziari e nella comprensione delle loro logiche. Fa parte di un percorso di consulenza che abbiamo stabilito insieme. I miei clienti mi apprezzano per la costante preparazione e attenzione ai particolari, per la mia disponibilità e autorevolezza e mi definiscono un partner affidabile. Questo complimento mi onora davvero perché interpreto il ruolo di consulente finanziario come una relazione a lungo termine con i miei clienti. Al momento ho una clientela eterogenea, accomunata dalla costante ricerca della qualità della vita. Dei miei clienti apprezzo la gentilezza e il rispetto. Il bello di questo lavoro è anche scoprire l'umanità delle persone con cui entro in contatto. Mi metto spesso alla prova e non solo nel lavoro. Sono un vero runner di quelli che correvano anche durante il lockdown nazionale. Lo dico con orgoglio perché ho partecipato a due maratone per sfidare me stesso e raggiungere il traguardo. Non mi interessa fare il tempo ma farmi trovare preparato per portare a termine gli impegni che mi assumo, esattamente come nella mia professione. Spero di correre altre maratone in futuro. Nel frattempo continuo a prendermi cura degli investimenti dei miei clienti e trattandosi di investimenti sostenibili contribuisco a lasciare ai nostri figli un mondo migliore.